Essere atleta comporta molti sacrifici, grande dedizione. Ma c'è una cosa a cui nessuna donna deve rinunciare se lo vuole, ed è diventare madre. Per sostenere questa scelta, anche nel mondo sportivo, ora c'è uno strumento concreto. Usufruisci del fondo di sostegno per la maternità delle atlete. Potrai avere per dieci mesi un contributo importante per vivere serenamente questo momento speciale. Mamme campionesse, ora si può! Grazie a tutti!